Musica Bella a tutti ragazzi, continuiamo le avventure con The Last of Us Anche se oggi dovevo fare il GTA V ma non avevo voglia Comunque, niente, proseguiamo Alla ricerca delle luci e del palazzo vetrato E vi auguro un buon gameplay, ciao ciao a tutti Ciao 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 Reggera Grazie. 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 Altri infetti, sto bene. Apri il cancello. Grazie. Grazie. Oh, merda. Ok, proviamo il cancello. Sì, dai, passa. Credi che quei clicker fossero luci? No. No, non credo. Perché tengono gli infetti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Forza. Sì, lo vedo. Su, forza. Forza. Niente guardia. Niente guardia. Niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere colpino. Entriamo. Forza. Su, forza. Andiamo. Ehi, guarda laggiù. Sì. Sì, sembra una via d'accesso. Sì. 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 La rugginita è bloccata. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Potremmo passarci su. Tirati indietro. Forza. Andiamo. Su, forza. Niente guardia. Sì, sì. Non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Sì, sì. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata. Ehi, luci! Qui c'è la cura per l'umanità. C'è nessuno? Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo la bacia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Facciamo piano finché. будет? Grazie a tutti. Non ci sono cose. È un buon seno, no? Se scopriamo dove sono andati. Oh, merda. Oh, merda. Non ci sono luci. Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in sceme. Cerchiamo ancora, troveremo qualcosa. Quattro bancali di... Quattro bancali di... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là, che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina. Voglio dire, a cavallo... Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Chi diavolo sono quei tizi? Non importa. So dove andare. Usciamo di qui. Sì. No, no. Grazie. E' un porco d'abora. Accio! Capri, mi foda. Grazie a tutti. 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 Cazzo... Oh, Marta... Oh, cazzo... Che cosa devo fare? Ok, ora devi tirare. Ok, sei pronto? Uno, due, tre! Tira! Tira! Raggiungi il cavallo. Non vedo nessuno. Andiamo. Joel, come va? Sto bene. Sto bene. Sto bene. da lì. Ehi, da lì. Non stai bene. Non stai bene. qui, appoggiati. Ehi, appoggiati a me. Ehi, appoggiati a me. Ehi, appoggiati a me. Ehi, da lì. Ehi, da lì. Ehi, da lì. Oh merda, oh merda Piccola strutta Joel Vieni, alzati Metti il braccio attorno a me Bene, andiamo Gioro che se ti tiro fuori di qui Ti faccio cantare per me Aspetta qui, apri la porta Avanti Che cazzo Prendi il cavallo Ok Piaccia salire? Ok, qua la situazione è veramente diventata una situazione di merda E niente Ecco Questo gameplay finisce qui Vi aspetto ai prossimi Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti